Allora, prima di tutto dobbiamo fare una data di Carlo Manelli che era evitato, ha ricevuto l'invito e non è venuto. Leonardo è venuto pure Fiammetta, riunivamo quel famoso trio che piace a tutta l'Italia. Sei proprio una sovato, ho chiamato pure per farmi fare il The Gusti Books visto che è uscito il mio libro e non mi hai fatto venire. Ma come devo fare con te? Però ti voglio troppo bene. Ma lì, descrivili cosa si sta perdendo. Stai perdendo una verticale di Perier Jouet millesimato, di cui ti posso dire che sinceramente il millesimato in formato magnum del 98 ha quel profumo di crosta di pane e di lievito che ti piace tanto. Signoramie, te lo stai perdendo e devo dire che anche il menù, onestamente, in abbinamento non era niente male. Spero di vederci a breve. Procco.